Il deployment di infrastrutture ad alto volume non è una cosa semplice. Si monitorano centinaia, se non migliaia, di siti, risorse, attività e obiettivi, utilizzando gli stessi strumenti vecchi, datati e quasi obsoleti. O meglio, si faceva così prima di SiteTracker. Con il software cloud di SiteTracker, i project manager, le squadre sul campo e di leader aziendali hanno una visione chiara di tutto quello che succede. E più visibilità significa più controllo. SiteTracker collega l'intero progetto con l'ecosistema dei fornitori, rendendo più semplice e veloce la pianificazione, la creazione e la manutenzione delle infrastrutture in un unico luogo. Sebbene l'automazione e la modellizzazione aiutino a rendere i processi di deployment efficienti e ripetibili, la collaborazione è fondamentale. La nostra piattaforma completamente digitale consente ai membri del team di recuperare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno, lavorare insieme e fare aggiornamenti ovunque anche in loco per poter lavorare in modo più efficiente. Quindi, con i dettagli sul progetto e l'apprendimento automatico, SiteTracker prevede i tempi di completamento delle varie attività, suggerendo anche le ottimizzazioni dei processi che portano a ridurre i costi, migliorare la qualità, accelerare la crescita e completare il lavoro nel modo giusto. Pronto alle prossime mosse? Preparati con SiteTracker!